burdel burdel buongiorno che cosa fai? qua c'è un pignone piccolo per me c'è frena, frena solo quando devi venire perché c'è il muro c'è la fila più qua, forse si parte e non lo vuoi meglio anche se cirenda un pignone piccolissimo per me cosa andiamo qua no 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 Grazie.